non c'è questo pepe parla con moncakero delle boazzi angelo se lo spari muore help e cagnoni sono atterrato c'è il mondo mi stanno per finire ma scusa quello che ho atterrato io non è morto manca l'ultimo e ma ne avevo atterrato uno c'è uno lì di fronte l'avete visto lì sta con lanciarazzi e mi ha dato la kill ok uno è andato là dove sta? dove stai? sali 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 e già sta sento tamburi pose dai morti tutti? si imparano a cagare in local allora ci puoi saltare in aria la bandia questa è l'ostilata ci sono tanti eh si ho visto tutti la stanno a puntare con lo stunso sono atterrati due ancora l'ultimo ma da qua livello proprio ancora scudato ok morti no sono fuori safe vabbè questa missione è andata vediamo un giornaliere come sto una hai fatto mi sa nemmeno si cerca lanciati da canoni da assedio oh mi stanno check inando mi stanno sparando c'è qualcuna dalle mie parti oh sta pieno arrivo angelo l'ho ucciso dove sei? ah l'ho visto uno l'ho atterrato traccato non posso c'è uno qua qua c'è lo pesce scudo angelo angelo c'è uno che forse sta bene da te non lo so dov'è? è morto c'è uno da queste zone angelo non so se tu lo vedo si chi non è stato vero? l'ho visto e lo sto vedendo no sono due sono due quello è uno c'è un altro sotto c'è un altro più in basso ah qua si che però dovrebbe essere craccato uno è morto questo qua vicino a me è morto c'è un tamburo blu eh l'altro qui dentro è morto? si c'era uno qui uh passi da me forse quello là era che è salvato qua c'è splash scudone un sacco di roba è morto però c'è un altro non lo vedo Stefano eccolo in mezzo alla strada sono due Kakashi è una shanty 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 eccolo traccato con l'aiuto dei lupi qua bianco quello angelo come cazzo lo vedi? tutti e due bianco anche l'altro uh 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 qualcuno di dietro ci sta mirando vagnani no ho sempre quello davanti radello no ne è si si vabbè il dio superno è arrivato qui con la spada atterrato uuuh dove sta? va dietro va dietro quest'albero di merda porco bestia che andrà fregolando c'è qualcuno porco due oh si vabbè 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 porco bestia ehi con cazzo fammi pino a way to the merda fammi uno spruzzino se riesce angelo mi sa che c'è qualcuno dietro angelo qua 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 dentro bianco no un colpo gli manca eh lo so però questi davanti ma ci rompono il c'è una macchina sì un camion dovrebbe essere dov'è? lanciato? un'oressa oh passi da me eccolo 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 l'occhio eh erano due dietro che bestia hai spruzzino ho ancora anche 10 ah mi è tente oh quel giro porco bestia eh questi ci romperanno il classico craccato no la faccola mamma quello con la spada blu è quasi morto craccato e si intornate ma quelli che abbiamo atterrato ah ancora la stanno sì sì uno è morto adesso sì eh oh oh qualcuno ancora eh ma a sinistra stanno eh a terra oh ti devono scendere no non devono per forza scendere però li possiamo prendere come per forza scendere ti avete ancora razzi vagnoni io ho due io nemmeno è rimasto uno c'è una van pavio o come cazzo si chiama oro di oro ok c'è un posto dove sono sopra la montagnetta fai gabbè ti lascia spruzzino dobbiamo andare in safe vagnoni eh ah ma uno è rimasto lol ah sì andiamo forse uno è morto andiamo 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 in pulso oh ah mi l'ho matto ma il fricolato ma il fricolato grazie a tutti